Sono Tiziana Virasco, candidata al Consiglio Comunale di Orta di Atella con lista Orta Viva. Per chi mi conosce sa che sono insegnante di danza sul territorio da lontano 2007, da ben 16 anni. Ma la mia candidatura non è dettata da questo, è dettata dal fatto che io sono consigliera nazionale AXI, associazione centri sportivi italiani e responsabile territoriale di Caserta e provincia. Promuovo in paesi limitrofi organizzazioni, manifestazioni ed eventi che non riguardano solo la danza, ma bensì anche rende protagonisti le attività ludiche, ricreative, culturali e soprattutto sociali, che queste ultime sul territorio mi vedono ancora partecipe. Parlo da mamma, parlo da cittadina, parlo a nome dei miei figli, dei vostri figli, nipoti, ragazzi, adolescenti, bambini, deboli e meno deboli, senza escludere nessuno. Orta di Atella deve rinascere, Orta di Atella deve ricominciare e per poter ricominciare abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questo è il mio settore, queste sono le mie capacità, queste sono le mie competenze e questa è la mia proposta per Orta di Atella. Che poi ribadisco, come già ho ribadito altre volte, Tiziana di Lasco, a prescindere da tutto, ci è stata, c'è e ci sarà. Viva Orta di Atella!